Il 2017 a Gualdo Tadino vedrà nascere il progetto di rifunzionalizzazione del centro promozionale della ceramica. La Giunta ha approvato lo scorso 22 dicembre il progetto preliminare da 900.000 euro, di cui 500.000 finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e 400.000 carico del Comune. La progettazione è tuttavia subordinata alla verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio, essendo stata la struttura progettata e realizzata prima ancora dell'entrata in vigore della legge antisismica. Esperita la verifica, laddove il parere sarà favorevole circa la sua tenuta, si potrà passare alla fase progettuale. L'intenzione è quella di dare vita ad un centro polifunzionale che nel piano seminterrato dia forma ad una scuola di mestieri, non solo ceramica come era all'origine, ma anche luogo di start-up e co-working, ovvero spazi dove dare la possibilità a chi ha buone idee di impresa di trovare un luogo e una consulenza per dare loro le gambe. Al piano terra verrà rifunzionalizzato l'auditorium già presente, destinato a convennistica e concerti. Al piano rialzato, che già ospita le opere dei concorsi internazionali della ceramica, verrà realizzata la sala espositiva delle opere stesse. Al piano più alto, invece, un'aula multimediale e mediateca. Il progetto prevede il rifacimento completo degli impianti, l'efficientamento energetico della struttura, con interventi sulle coperture esterne. Verranno abbattute le barriere architettoniche oggi esistenti e riorganizzati gli spazi nell'area seminterrata per adeguarli alle esigenze dell'incubatore d'impresa. 250.000 euro l'importo dei lavori per l'adeguamento strutturale, 290.000 per l'efficientamento energetico e l'impiantistica, 60.000 euro per l'arredo delle sale, mentre i restanti 300.000 euro sono destinati ad indagini geognostiche, sismiche e alla verifica della vulnerabilità dell'edificio. Il 2017 sarà dunque l'anno della progettazione ed inizio lavori, rimandando realisticamente al 2018 la possibilità di veder concluso il progetto e riconsegnata alla struttura.